e ciao a tutti ragazzi sono victor tiger io sono mkv e quest'oggi ragazzi iniziamo una nuova serie ma questa volta lo facciamo insieme e con la facecam iniziamo a way out ragazzi io vi invito a supportare questa serie perché abbiamo aspettato tanto per farla ragazzi senza perderci in altre chiacchiere iniziamo ok accettiamo direi di giocare il locale si ok ragazzi giovatore 1 sei tu? si io partecipo ok nuova partita? ok avvia si inizia a ferna ma quindi sei tu vincent e io leo? vediamo aspetta ah no ok possiamo scegliere ok vedi vedi un po' ok ragazzi vincent moretti età 43 crimine frode appropriazione indefica omicidio deve scontare 14 anni ok razionale disciplinato e riservato direi che non posso essere io vediamo leo caruso ok 36 anni rapina attrissione furto aggravato ha scontato ha scontato sei mesi su otto anni sicuro irascibile ironico direi che posso essere più io questo ma questo è giovane quindi non puoi essere tu no ragazzi io sono più giovane quindi io direi che scelgo questo anche se non mi piace tantissimo però dai ci sta insomma direi che ma il vecchio barbone sei tu ho capito ma però vecchio tu io sono barbone però a parte c'è pure tu oggi la barba quindi eh beh me la devo tagliare dai si si ok si parte ci stanno per sbattere al fresco almeno direi di proprio di sì ma fa caldo sì esatto fa caldo però ci sbattere al fresco se non è il ghiaccio bella la brigio sì molto anni 70 70 qui 60 70 direi almeno non mi sembra non so in tempi recenti non ho letto ma non penso sia in tempi recenti la grafica dei 3d poteva essere meglio il ps4 poteva essere meglio vabbè però pensando i personaggi ok ma i veicoli si effettivamente è un po' cioè se vedi la texture della finestra dietro molto la noir e lei noir come grafia beh ci può stare vediamo com'è il gioco a fine anche mostrante da lontano sono fatte bene però da vicino esatto non sono proprio in realtà è anche la risoluzione proprio dell'immagine che non mi sembra altissima ok già già siamo dentro questo sito direi di sì sì ok ragazzi scendi dall'autobus ok però corri non ok ok mi dice di cliccare ma io sto scendendo dall'autobus devo entrare nella regione per lui quello è correre ma che cazzo io non posso correre posso dire la visuale dove stai dove stai fammi vedere dove sei devo entrare nella regione ok devo andare qua oh quadrato mi stai vedendo? io ti vedo la soprappoggiata ecco ti guarda come ti sputo in testa allora qua stanno tutti depressi che vuole questo triangolo quindi ci posso staccare? cosa vuole? si forte? no niente no niente no oh oh sai guarda o allora proprio le vogliono già che uno li picchia appena arrivi triangolo questo triangolo questo posto fa schifo si stanno picchiando? mi ha gioco pure io non posso sopravvivere che cazzo non devo stare qui andrà tutto bene non è vero andrà tutto bene ha capito tutto ma glielo posso dire se vuoi ti rallegro con un bugno in faccia direi che con la guardia davanti non è il caso andiamo a vedere un po' qua che cosa ci dice questo cazzo amico quella rissa là fuori è stata brutale si sentivano le ossa che si... eh addirittura ok io devo firmare e non firma ah ma quindi direi che direi che io sono già dentro da un bel po' si infatti lo dicevo sei messi già si già sei messo eh ma... ho sentito shit che ha detto? eh perchè lui ha detto che non è un duro ma il vero duro sta entrando adesso che vuoi tu? ti devo mettere le mani addosso ma spinto ho dato ha spinto è meglio di no che cosa ci dia? ah no aspetta parliamo proprio con questo spogliati angolo mi devo spogliare eh eh ragazzi è niente di più eh io sa la cara che fisico vedi la madonna ragazzi no però sembra che c'ha la panza quando si è girato si anche dell'acqua ma che ca... bruttissima l'acqua ragazzi che è stata fatta tra l'altro si presta è inculato tipo oh oh oh... ma... e che teneri il catrame addosso ma è bello come si agita ho capito che magari il gento è forte è caldo però... con la pompa non è censurata come non è censurata non l'ho guardata questo mi sa che lo dobbiamo censurare ma che cazzo ma se si gira vedi che non è censurata no ma non ci tengo ma che oh arriva il direttore tu sei depresso eh no ti sto aspettando oh 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 aspetta aspetta sono williams e questa è la mia prison sono williams mai vai che ti picchiano vai che ti domano la faccia youtube break it up now mi sa che le visite non le avrà mai non le avrà mai nemmeno quelle mediche la nostra la nostra ok oh 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 ti vedi no eh non posso muovere la telecamera ma io ti vedo adesso si oh un po' il lezzo eh stai là sopra si ti vede oh ah lì faccio lo spione ma vuoi vedere ti giro la telecamera in modo che si vede no no grazie e vedi aspetta nooo dai almeno è reale almeno pure si però ovviamente lo dobbiamo questo lo dobbiamo censurare si si penso proprio di si ma come si compra perchè io con un po' troppo devi eh no mi sa in un po' troppo mi sto salendo sulle scuole non so se devo andare sulle scuole no non è il tuo piano ok cammina chiappetta rosa ok questo era il mio piano non so se in tanda c'è vestiti se non lo voglio vestiti vestiamoci chiudi la 49 la 49 è la mia serie negro negro scusate ragazzi lo sento proprio questo go hey take it easy man what's wrong with you close up cell 48 perché sei diverso oh oh sono io donna io ho un cazzato nero sto tenendo due aspetta tu sai sono seduto su una panchina quale panchina è ma giù forse o no non la vedo quindi penso sia giù ti devo venire più a te no no vengo io così ti venga da due schiaffi in faccia no 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 ma mo ti picchio io dove sei oh 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 meno male ma ti picchio io trovi quindi l'interesse vicino ma che è sì ma cosa si compra questo lo vedo tosto proprio ma come sei utile ma ok devo dire la verità questo è un po' dentro ah sì ma ti venga aiutato ti venga rompere la pace oh donna questo po' mi cazzava con gli occhi storti bang non mi sembrava come un tavolo no no vediamo così devo lottare no non devo lottare vai 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 io contro ti te ho tutti i due contro ti comodo Ma mi chi è stata soppiata con te? Madonna, violenza... Oh, io ho già lo soppiato... Oh, il sangue d'anima! No! Il quadrato capisce triangolo schifo... Che poi è che mi attacca, no? Schifo, vabbè... Vabbè... Madonna... Bud Spencer e Terenzio, no? Madonna... Niente più! Odunna! Oh, è riuscito pure a... Vedi, la scuola da sangue? No, no! No! Aiuto... Eh, ma lui era uno schiappe... Dai, dai... Oh, mo ti do un cazzotto in faccia, pure a te! Che era quello? Era... L'appoggiato solo! Pingo, ping! Vai, vai, picchiettori! Madonna, mi dico, Bud Spencer e Terenzio! Vale, mancamelo di poco! Mi do un cazzetto in faccia! Allora, mo ci arresto, no? Ma sta guardando... Cioè, ci arresto ancora di più di quanto siamo arrestati già! Sta vedere? Eh, no! Ma non mi hanno mai colpito! Che fa? Fa finta! Ma va! Fischia! Chi vuole andare in isola, ma? Eh, t'hanno rotto la faccia di là di te lo sanno! Come ti permetti? Ma ti sputo in faccia! Eh, ma vai! Metto solo le cose in chiaro, metto! Mensa! Ma ti posso rompe il... Scarafaggi in piatto, no? I fagioli! I fagioli! Caffetta di pane! La piva che è? Una pizza? Cazzo! No, sarà un cucchiaio forse, boh! Caffetta di carne! Ma ti posso sbattire il piatto in faccia? No, no, no! Ma va, 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 va! Un boss arrivo! Scuruto! Caffetta! Fammi trovare un posto, va! Oh, cazzo! Non si può correre col piattimo, no? No, però va, va, va più veloce! Non posso andare di posto! Ah, io mi siete assieme a questi qua! Vedo un sei buono! Lascio con una mera! No, cazzo! Cazzo fate fin da non mi sentire! Ma, guarda! T'è stata in bocca e faccio vedere io! Beviamo un po'! Ste di cazzo! Usa la forza! Mangia un altro buono! Mangia, mangia che è buono! Boooo! E qua basta! Che ti vede da qua, che stai facendo le sceme, ma ti venga da proprio! Ma non mi fanno passare, io c'ho fame! Cazzottone è bastardo! Ma non mi fa passare poliziotti, ti volevo tassare proprio qua! Oh! Tonna! Ma, non mi dicevo forse, non voglio mangiare! Oh, mio d'altro mi ha dato la mia, ma non d'altro! Cura a me! Ma grana da questo, eh! Ehi, ti sta dando, ti sta dando! Va, 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 va! Ma non mi ha detto che l'al pezzo di merda! Vai lì! uuuu questa è la semigna come ha ammaccato la cucina eeeh stavolta ti devi sapere ooo nooo 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 uuuu l'uomo un piatto costo calma non sono le cose appena no come una campana no no ma non ci facciano fatta da il sill cage oh ma stanno dando a me oddio come 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 la testa madonna come il cuore sai che quello è morto come ma che ma non coltellato quello il poliziotto erano tre poliziotto ah ok uno stava a terra una papà shit shit i hate those things eh di pure paura che cazzo be careful un drago che gli stacca il bravo che poi gli trapassa il braccio ahhh ahhh stava cagando sotto ahhh una mal di faccia che è quella scritta che si muove sotto dove non l'hai visto no tremava la scritta che cazzo fa quell'altro sta avvitando ma sembra una siringa questa no ah no ok lo sciaccia la pupu eh eh ma devi via il giraviti è un'arma è un'arma ma che ci hanno messo a un letto differente vedi vedi la scritta sotto non lo fa sempre però ogni tanto trema eh vabbè dai vedi 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 cosa che wszyscy di capisci imbevo vedi 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 re vedi 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 va eh vedi 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 sì vedi 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 non interagio you non facciamola e invece ha ripensato il collo spezzato ma fa tieni gli occhi ma c'è lì ho sempre aperti anche quando dormo ok andiamo alziamoci però la strada di strago l'infermio aspetta rimane sul lettino le scarpe ma che viene l'infermiera da mesi ma devo distrarre se te ne vai davanti alla porta vengono a distrarlo penso che sei raccorto ma donna vai ma donna quando posso andarmi aspetta aspetta il poliziotto si va ma c'è il poliziotto trova il momento giusto io non la potrò distrarre per sempre che posso fare per la guardia bussa ok vai 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 no veloce guarda se siamo proprio nel momento in cui veloce prima che se ne accorgono e prima che l'infermiera torre oh gli serve il sapone vedi che tra poco se ne accorge l'infermiera vado a vado a vado a tornare luce corri corri non corre donna vai 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 sì ma poi come cazzo ho fatto l'infermiera da un accorgimento tutto mal di testa spaventare burta tutto drammu, mo abbiamo un'arma che cazzo è un chiavistello e ruba ma 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 nascondite, ma voi ti vede dove te lo nascondi ah ok è tipo una lima o qualcosa del genere ah l'ha nascosta in modo che lo guardare a riprendere poi ci sta è una lima si le lime sussavano prima devo tagliare sbarre ma che stai pianificando fuga da alcatraz proprio oh un rigido, oh ma cammina eh perchè è tutto bombato, non hai visto prima che muscoli eh la panza vedi a te che vene sulle mani ah perchè io c'ho il muscol oh c'ho il piano ma bastardo questo che sei tu tra l'altro eh ma un bastardone proprio in modo che lo muovi in pace non mi vuoi d'aiuto non mi vuoi d'aiuto eh che fuga da alcatrazia che fuga da alcatrazia chi hai parlato con? che fuga da alcatrazia non mi vuoi d'aiuto crederlo? pensi che tu e me abbiamo qualcosa in common noi due vogliamo il morto no ah è quello di prima ah è quello di prima no 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 giustamente uno forse è un personaggio che ancora non abbiamo visto sarà tipo l'antagonista o qualcosa del genere si ma molto probabilmente l'obiettivo è uscire dalla prigione per andare a trovare questo arde e ucciderlo si penso proprio di si tanto vediamo se riusciamo ad evadere poi insomma vediamo che pensiero usso eh mi sa di si non aveva detto che le mura sono sottili vedi come è il dubbio sì è il mio progetto e io ho deciso che si siede capisci? certo quale che gli dici mi chiede di questo tu ti f***i l'acquire e io lo capisco quindi qual è il progetto? lo vedrai pronto ok ragazzi io direi che su questa introduzione ci possiamo salutare per il primo episodio come sempre vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e sempre se vi va ragazzi che dire ci si becca online